Asna è a oltre 600 chilometri. Un bel viaggio per una festa. Dì la verità, ci siamo persi. Dobbiamo svoltare. Non è qui. Sì, che qui. No, David! Zitta, non essere stupida! È stato un incidente. Ce lo siamo ritrovato davanti. Non vogliamo certo la polizia. Si metterebbero a ficcare il naso ovunque. Eri in auto con un ubriaco e questa cosa ti rende complice? Come se non fossi complice già da tanto tempo. Adesso sarai avvilita per tutto il weekend o deciderai di divertirti? Non è un crimine divertirsi, lo sai. Immagino di potermi sforzare. E ha parlato di soldi? No. Vuole che lei vada con loro a seppellire il ragazzo. È consuetudine da questa parte. Le persone scompariano qui. Nel nulla svaniscono. No. Ho fatto fuori! Non si può fare. Non si può fare. Non mi sembra. Non mi sembra. Non mi sembra. No. Più di una volta, forse. C'è un termine preciso nel tuo paese? Carugna. Non puoi scappare da nessuna parte. Non ti puoi nascondere. Non ti è venuto in mente che magari sta pianificando qualcosa di più sgradevole di quello che stai pensando tu? Ti sei dimenticato di mio marito? Sì, è vero. Lo stesso tu. Perché ha consentito avvenire?